Ad Atene è una manifestazione pro-Europa per chiedere al governo di non andare allo scontro con i creditori. Nelle ore più critiche del negoziato tra Atene e i creditori sono soprattutto gruppi vicini al mondo imprenditoriale a chiamare a raccolta chi teme un'uscita dall'euro o persino dall'Unione Europea. Sono qui perché voglio che il mio paese resti nell'eurozona, ho figli e nipoti e voglio che abbiano un futuro. Senza euro non ne avranno. Non voglio nemmeno pensare a uscire dall'euro, non ci voglio nemmeno pensare. Sarebbe un disastro e non solo per la mia generazione, per tutti. Sarebbe drammatico. In una lettera aperta al governo gli organizzatori della manifestazione scrivevano la cosa più importante è non sacrificare un grande risultato per la nazione, cioè il fatto che la Grecia sia membro dell'eurozona. Qualunque via fuori dall'Europa sarebbe un incubo, questo è quello che dicono i manifestanti e chiedono al governo di trovare un accordo. 24 ore fa nella stessa piazza i manifestanti chiedevano al primo ministro di dire no ai creditori. Il tempo si sta esaurendo e la Grecia deve prendere decisioni difficili.